ecco la mati che rompe le palle a nico mati vieni qua andiamo in ufficio stiamo preparando delle figate nuove nuovissime saluto a pie ciao ma vi succede anche a voi di avere problemi con i runner di globo è la terza volta che mi chiamano incazzati perché non capiscono come funziona il citofono come se fosse colpa mia e basta premere enter è tragicomico a me non viene la paranoia io sono un po' così però non mi viene la parola che se quello che ti consegna da mangiare si incazza poi ti sputa nel cibo che ti consegna non lo so forse perché lo farei anche io no non lo farei comunque mi è capitato un paio di volte che per la para che mi avessero sputtato nel cibo ho buttato da mangiare e non l'ho mangiato non sono normale lo so però mi curerò promessa India e Milano ma sembra Miami Beach che bella Milano attenzione Paolo ha preso la papera dell'amati stiamo festeggiando il compleanno di Rovazzi se non si notava attenzione Cristiano ha ceduto lo scettro della rima a Betto useremo il megafono che fa rima con telefono ma come? ma cosa? ma cosa? ma cosa? ma cosa? allora ora faremo una cosa e diventerete tutti pazzi vi stiamo dando il numero di cellulare di Fabio Rovazzi lui con noi cavalieri rimarrà per sempre offeso ma scrivetegli sei teso? no cosa? ti stanno chiamando Fabio? ti stanno arrivando dei messaggi Fabio ti stanno arrivando un po' di messaggi guardate la velocità dei messaggi guardate che sale a dismisura grazie mille a tutti per gli auguri vi risponderà a tutti Fabio stasera mi scriverò sembra il Nasdaq non c'era bisogno nuovo iPhone X se ricevi più di 3.000 messaggi su Whatsapp non era pronto comunque grazie per gli auguri davvero qualcuno mi regalano il Facebook scusa fai vedere è di marmo ma è veramente perché raga? comunque vedete noi rimaniamo sempre dei ragazzi sobri quando avrai un passino così di Fabio comunque si è ripreso ed è in pieno regime no si è fermato sembra la ruota della fortuna guarda 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 funziona tutta l'istra stories guarda no vabbè insomma scusate volevamo dimostrare che anche comunque tipo un'ora dopo grazie a tutti non ho mai venuto grazie volevo dirvi che quanto cazzo sono british bufo di Fabio che si è bloccato con un dai 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 così proprio e se lo blocchi se lo blocchi e lo risblocchi ti rimane il dai 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 e sei pisi perché ho ricevuto questo messaggio amico mio la rima la faccio io tu riempi il tuo bicchiere te lo dice un cavaliere e se tu dici senza pagare io dico andiamo a sbragare che la forza sia con te e con il suo spirito stasera viva il portegno viva il portegno stasera viva il portegno vieni i fratelli che fanno il portegno con gli assistenti sociali